Circa un'ora e mezza fa mi ha chiamato la moglie di Nando, di Nando Iopolo, per darmi una notizia per niente bella, cioè che Nando ci ha lasciato. A parte il primo sconforto, il grande dispiacere, mi è poi venuta una grande forza, la forza di continuare quello che Nando ci aveva, tranne se quello che Nando aveva insegnato. E nei nostri discorsi, me lo dicevamo sempre, non bisogna mollare, andiamo avanti perché ce la faremo, perché dalla nostra parte abbiamo la verità, abbiamo l'etica, abbiamo la giustizia vera, è una lotta giusta. Stamattina la moglie era commossa e mi ha detto che Nando parlava sempre di quello che si stava facendo e di quello che avrebbe voluto fare. Quindi, grande dispiacere per la scomparsa, ma non molliamo perché questa era la volontà, questo era anche lo scopo di Nando. Quindi grazie a chiunque porta avanti ancora questa battaglia, le sue idee, quello che lui ci ha insegnato. E grazie, e grazie al grande Nando. Ciao Nando.